Buonasera, buonasera, bentrovati, topic, topic che oggi voglio interamente dedicare ad una vicenda che mi sta particolarmente a cuore. Parlo dei test psicoattitudinali per i magistrati, ma è stato uno scalpore incredibile, tutti da una parte più che altro, ma come i test per i magistrati? I magistrati sono scesi in piazza quasi, metaforicamente possiamo dire, sono scesi in piazza per dire ma come fare i test? I test, questo è un dato importante ed è grave, perché è stato sottolineato da chi riveste ruolo importante nella magistratura. Dice testualmente Giuseppe Santa Lucia, lo dice tra l'altro nella televisione nazionale la Sky, in merito dei test psicoattitudinali per i magistrati interrotti dal governo, secondo qua il quale non servono a nulla, anzi è solo propaganda. Allora uno deve farsi delle domande e dire, ma scusami, i test psicoattitudinali che fanno le forze dell'ordine o che fanno quelle categorie chiaramente che possono essere importanti perché tutelano o salvano la gente e non sono più necessari, non vanno fatti, sono inutili. Cioè secondo i magistrati questi test psicoattitudinali non sono necessari. quindi noi smontiamo totalmente l'utilizzo di questi test, lo diciamo ai poliziotti, carabiniere, guarda di finanza, aeronautica, militari, militari, non fate più i test perché i magistrati dicono che non servono a nulla. Allora non servono a nulla o non servono a loro? A nulla perché loro sono di un pianeta diverso, sono esseri umani superiori, eccellenti, sono vicini al Santo Padre perché un essere umano magistrato non deve fare i test. Ma lo vengono a spiegare perché non devono fare i test. Giustamente, e non so se è una cosa ironica, quella di Gratteri, procuratore ora di Napoli, non si capisce se lo dice tra il serio e il faceto. Dice praticamente allora i test psicoattitudinali dovrebbero essere fatti anche ai politici o chi riveste incarichi di governo, a sindaci, assessori, insomma a tutti coloro che in qualche modo poi se sono squilibrati possono creare danni ai cittadini. Ma io questa la condivido pienamente, non la vedo come una cosa su cui sorridere. Dovrebbe essere quasi scontato. Come per esempio un'altra provocazione è quella di, dice lui, facciamo anche i controlli antidroga e gli alcol test. Ma signori, queste cose dovrebbero essere già scontate. Cioè se tu sei un magistrato, se tu sei un poliziotto, se tu sei un carabiniere, se tu sei un sindaco, se tu sei un assessore, se tu sei un medico, è chiaro che devi fare tutti questi test. È chiaro che devi dimostrare di non drogarti, devi dimostrare di non essere alcolizzato, devi dimostrare di essere sano di testa, di non avere problemi psicologici o psichiatrici. È chiaro, è giusto, non c'è nulla di opinabile. Perché stiamo parlando di figure importanti che per proprie competenze gestiscono la vita di tutti noi, o per sicurezza o per medicina o perché ti devono controllare se hai fatto atti giudiziari che possano essere portati a colpevolezza. Insomma, queste persone devono essere chiaramente prima di tutto sotto controllo. Attenzione, il controllo è per tutti i cittadini, per tutti i cittadini e lavoratori, per tutti coloro che devono aver contatto con altri, devono chiaramente non pregiudicare la vita di altri, non pregiudicare la libertà di altri. E quindi è per questo che io mi voglio soffermare oggi su questo argomento. Sembra un argomento delicato, perché vedete, poi ci sono i vari portabandiera, quelli che leggono in maniera superficiale e si fanno delle opinioni che poi esternano senza conoscere. Cioè la magistratura è fondamentale, è importante, sono i giudici, sono coloro che devono staccare la spina da qualsiasi appartenenza, da qualsiasi sudditanza psicologica ed essere lindi, specchiati per poter giudicare un altro essere umano. Non devono esserci cavilli che possano portare fuori strada. Voi sapete che spesso anche colleghi sono diventati protagonisti nel gettare anche fango su tanti soggetti, che non sono solo i magistrati, possono essere altre figure professionali. Quindi anche noi giornalisti dovremmo stare molto attenti e fare dei test per capire se non ci sono veramente problemi e disturbi, se non si è tossicodipendenti o si è condizionati. E attenzione, questo non è ledere la libertà. Il problema è che se ci sono problemi tu la libertà la neghi agli altri. Quindi ritengo che è buon senso controllare tutti. Quindi non si devono sentire offesi i magistrati se c'è un controllo soggettivo. Anzi, dovrebbero essere i primi a dire sì, come ha detto Gratteri, mi auguro che lo abbia detto in maniera seria. Sì, facciamoli i controlli, facciamoli a tutto tondo, perché chi ha funzione pubblica deve essere, ripeto, lindo, ma lindo, senza nessuna ombra. Questo è fondamentale sottolinearlo. Io mi auguro che prevalga il buon senso, perché vedete Nordio, il ministro, ha risposto anche all'accusa che gli è stata fatta dalla magistratura, da alcuni rappresentanti in verità della magistratura, non tutti. Non voglio essere anche io un generalizzatore, perché qua ormai vanno di moda, grazie ai sociali, generalizzatori, coloro che accusano tutti, senza pensare chiaramente che ci sono persone che non possono identificarsi in alcuni che vengono accusati, poi magari anche in maniera spropositata e senza ragione. Lui dice appunto, ma di che cosa vi preoccupate se sarà un esponente del Consiglio Superiore della magistratura a nominare i tecnici che poi dovranno, i giovani magistrati, attenzione. Bisognerebbe preoccuparsi, forse sarebbe opportuno, i magistrati di ora, coloro che operano, perché forse l'ordine che operano oggi sono sempre controllate, fanno i test, fanno tutto ciò che è giusto fare. Allora, qui si parla di una legge che partirà nel 2026 per coloro che si accingeranno alla professione di magistrato, i test, non di ora, non quelli esistenti, che sarebbe opportuno forse per qualche magistrato fare qualche test, secondo le ultime dichiarazioni che abbiamo anche evidenziato di taluni, ex o magistrati ancora in pettore. E dice Nordio, io l'ho fatto il test psicoattitudinale in passato e non mi sottraggo ad eventuali ulteriori controlli. Ecco, per evitare che ci possano essere manipolazioni, che ci possano essere ideologie, che ci possano essere possibili rivendicazioni di scheletri in armadi. Chi fa qualcosa con il pubblico e per il pubblico deve essere sotto la lente di ingrandimento. E il giornalista, il suo mestiere, sarà quello di cercare di puntare l'attenzione su questo. Questo è fondamentale. Quindi, siamo tutti d'accordo, chi svolge questo determinato compito delicato deve essere controllato. Non me ne vogliono i magistrati, ma penso che anche loro debbano essere i primi a dire sì, facciamolo per evitare che ci possano essere correnti di pensiero che vadano verso la demonizzazione di un'intera categoria. Siamo arrivati alla fine di questo spazio di topic. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione. Questo, come in sintesi, è il mio personale pensiero e le nostre coordinate. La nostra mail redazionechiocciola-notizia.it e poi il nostro numero telefonico 3792 24 24 20. Grazie per avermi seguito. Arrivederci.